E' nato il Comitato Promotore per la Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Aspetti Contabili di Aversa, circondario del Tribunale di Napoli Nord. L'iniziativa annunciata nel corso della riunione dell'ultimo Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Caserta nasce dal gruppo di consiglieri appartenenti al territorio della circoscrizione del nuovo Tribunale. Tra i soci promotori figurano il consigliere segretario dell'Ordine di Caserta Antonio Carboni, al quale sono state affidate funzioni di Presidente del Comitato e ancora i consiglieri dell'Ordine casertano Nicola Del Piano, Francesco Paolo Guida, Francesca Saiocco e Antonio Sant'Agata. Numerose le sottoscrizioni raccolte, le adesioni già pervenute al Comitato e le manifestazioni di approvazione, non ultima quella dell'intero Consiglio dell'Ordine di Caserta, che ha accolto positivamente l'iniziativa dei consiglieri di area versana per garantire le legittime aspirazioni di quei tanti iscritti appartenenti ai territori della circoscrizione di Napoli Nord, che manifestano la volontà di istituire il nuovo ordine di Aversa. Tempestiva l'iniziativa dei consiglieri casertani, volta ad assicurare a tutti gli iscritti degna rappresentatività non solo a livello locale ma anche provinciale e regionale.